Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Toleranza zero e controlli a tappeto con autocivetta della polizia stradale di Pesaro su tutto il territorio per scovare gli automobilisti che guidano con il cellulare in mano Carrozzina negata ad un disabile, ora si rivolge a Fanno TV per lanciare un appello Il cuore d'oro dei fanesi donati al sindaco di Arquata del Tronto, 40 mila euro, soldi raccolti nei tanti eventi di solidarietà organizzati in città Giovedì dopo il telegiornale torna in diretta a Missione Salute con una puntata dedicata alla senologia, in studio il chirurgo Claudio Magalotti Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia Vi sarà capitato sicuramente di vedere o anche di tenere in mano un cellulare mentre si è alla guida dell'automobile Ebbene, nei giorni scorsi la polizia stradale di Pesaro ha effettuato una serie di controlli a tappeto Controlli che proseguiranno anche nei prossimi giorni Tutti particolari nel servizio di Lino Balestra che ha intervistato il capo della polizia stradale di Pesaro Diciamolo pure, mentre si è alla guida dell'auto la tentazione di rispondere ad un messaggio o di guardare la mail Appena arrivata sul telefonino o sul tablet, messo lì, sul sedile accanto, per qualcuno è una tentazione a cui non si riesce a resistere La cosa, oltre che dal punto di vista sanzionatorio, ci può costare molto in termini di salute Perché una recente analisi sull'incremento degli incidenti per distrazione mostra in maniera inequivocabile Che il numero uno di chi guida sono proprio le tecnologie digitali, ma non solo quelle dei portatili Anche i nuovi schermi touch e tutto fare dell'auto, radio, navigatore, autocontrol, caffè, cappuccino e previsioni meteo Sono una vera tentazione irresistibile Comandante, allora ultimamente vi siete concentrati su dei reati che affliggono gli automobilisti moderni, diciamo 2.0 Alcuni atteggiamenti alla guida nell'ultimo periodo hanno anche un'incidenza sotto il profilo dell'infortunistica Quindi abbiamo collegato l'evento incidente stradale sempre più spesso a fenomeni di distrazione Che sono imputabili all'uso smodato di questa nuova tecnologia più che solo ed esclusivamente legata al telefonino A quali sanzioni va incontro l'automobilista, il trasgressore che comunque compie l'infrazione che abbiamo citato prima? Della classica multa che adesso ammonta a 161 euro, senza considerare le spese di notifica Perché chiaramente poi dopo il verbale se non è immediatamente rilasciato sul posto Comporta anche una procedura di notifica con aggravio di spese Però di solito il disagio più grosso che l'automobilista patisce in seguito alla sanzione è la decortazione dei punti Che nel caso di specie ammonta a 5 punti Tuttavia però noi recitiamo insieme a diversi partner in quest'ultimo periodo uno slogan che è abbastanza significativo Se non rispondi non muore nessuno, guida e basta Perché in realtà ci vuole molto meno tempo e probabilmente anche molta meno perizia Nel fermare la macchina accostandola al ciglio della strada In sicurezza chiaramente anche questa manovra Di quanta perizia e spesso tempo ci vuole per accedere ai servizi multimediali o del telefonino O anche del touchscreen che governa il sistema multimediale della macchina Da qualche settimana a questa parte vengono organizzati che i miei operatori escono per contrastare questa fenomenologia Che diventa preoccupante, lo facciamo con autocivetta Però per una questione di correttezza e di chiarezza Il personale a bordo delle auto in borghese è rigorosamente indivisa E l'infrazione viene assolutamente cristallizzata con certezza e con coerenza Per cui consapevoli di questo che apparentemente può sembrare un tranello Ma vi garantisco che non lo è perché in gioco non vi sono i 161 euro o i 5 punti della sanzione accessoria In realtà c'è la salvaguardia dell'incolumità pubblica In tanti hanno commentato questa notizia positivamente Invitando la polizia stradale ad andare avanti con questa azione di controllo e di repressione Verso chi guida con il cellulare in mano E adesso andiamo avanti con il telegiornale Vi raccontiamo la storia di Elvis, un ragazzo disabile I genitori, il papà ha fatto una richiesta per ottenere dalla sanità pubblica una carrozzina Una carrozzina che però gli è stata negata, come sentiremo tra poco Elvis ha un sogno Quello di potersi spostare e vivere come ogni altro ragazzo di 31 anni Quella che vi raccontiamo oggi è la storia di un ragazzo fanese Che come tanti vive una condizione di disabilità e di lotta quotidiana Anche solo per entrare dentro l'ascensore di casa Un vero percorso a ostacoli che la carrozzina che ha gli rende ancora più gravoso Una lotta che divide col padre, Raimiro Presenzini, 70 anni Ogni volta che arriva a casa dal centro smonta, rismonta, sposta, alza di peso e rimonta ancora Ma che ora sta cercando di ottenere dall'Ausl di Fano una carrozzina per verticalizzazione Che gli consenta una quotidianità migliore Ma che la scorsa settimana un funzionario dell'Ausl gli ha negato Raimiro, di cosa soffre Elvis? Allora, tetraparesi spastica, gli altri inferiori e superiori Il problema mio è il gestire Elvis quando viene a casa il sabato per il weekend Cioè io lo devo portare in ascensore L'ascensore è stretto, è piccolo E quindi per portarlo dentro lo devo faticare immensamente Devo smontare la carrozzina, lo devo prendere di peso Elvis sarà sugli 85 kg Con la carrozzina che è più o meno a tre tanti La devo inserire nell'ascensore e angolarla in una maniera tale Per poterlo infilare dentro Perché io abito al terzo piano Ti sei rivolto alle strutture pubbliche Ma non hai avuto la risposta che ti aspettava Non ho la risposta, tutto negativo Il mio problema è che ho visto Mi è stato consigliato un tipo di carrozzina Che si eleva verticalmente E mi dà la possibilità di poterlo inserire in ascensore E per me questa è già una cosa molto utile Perché poi quando lui è in casa, fra l'altro Ci sono anche altri problemi Il problema un altro è quello di metterlo nel letto Se io avessi questa carrozzina La carrozzina ha anche la seduta bascolante Il che mi dà la possibilità di prenderlo E levarlo bene e metterlo nel letto Secondo qualcuno La carrozzina non è adeguata a Elvis Perché Elvis ha le ginocchia praticamente chiuse Perché non ha Non estende bene le gambe Avendo una lussazione alanca Raimiro è abituato a combattere Da giovane è stato campione di lotta greco-romana E non si arrende Anche perché la carrozzina rientra Nel nomenclatore tariffario del Servizio Sanitario Nazionale È prescrivibile quindi E la dottoressa della medicina riabilitativa di Fano Infatti la prescritta La prescritta dottoressa Mosci Che conosce Elvis da quando noi abitiamo Circa sono 15 o 20 anni che abitiamo a Fano Lo conosce Conosce la sua storia Conosce le sue problematiche E invece dall'USL c'è stata una negazione Negativo totale Anzi sono rimasto molto male Perché Elvis ci teneva molto Perché per me era come un regalo di Natale Se fosse arrivata E purtroppo Siamo stati bocciati Elvis con la nuova carrozzina potrebbe fare tante cose Ed il papà Il sogno di vedere Elvis felice Anche Elvis ha un sogno Andare al mare E fare una passeggiata Proprio col suo papà Un sogno Che però per il momento Gli è stato negato Io vorrei rivolgere a quel tipo A quel giustiziere Come lo dico io Colui che mi riniega questo sogno Vorrei che fosse lui al mio posto E continuiamo a parlare di sanità Oggi e anche oggi Tante le reazioni alla scelta E alla decisione della Regione Marche Di costruire Di scegliere Fosso Signore Come sito per il nuovo ospedale unico Ad intervenire oggi È Angelo Serra Presidente del Conf Commercio di Pesurbino Che dice È sicuramente il luogo meno adatto Non entriamo nei tecnicismi Legati alla tutela della salute Dei residenti della provincia di Pesurbino Ma in questo modo Si deturpa un'area di grande prestigio Dal punto di vista ecologico ed ambientale Un impatto assolutamente pesante Sul lungomare Senza contare la pessima attuale viabilità Che andrà ulteriormente ad appesantirsi Con la costruzione di un nuovo ospedale Per il turismo e l'economia provinciale Conclude la nota di Conf Commercio È una scelta intollerabile E assolutamente negativa Ed è intervenuta Oggi Sono intervenuti Su questo argomento Anche i 5 Stelle Per voi 5 Stelle Non c'è niente di nuovo È da un po' che portavate avanti La tesi di forse sei ora Sì purtroppo Le previsioni si sono avverate Il peggior risultato Con la peggior strategia politica Lo stesso Seri Ha detto che Nell'ultima riunione di Aria Vasta Si è trovato da solo Con 51 sindaci A perorare la causa di Chiaruccia Si è definito un Davide contro Golia Io ho visto i risultati Lo definirei più un Don Quixote Contro Molini a Vento In realtà Seri si è voluto solamente Salvare la faccia Di fronte ai cittadini fanesi Ma questo lo possiamo anche appurare Oltretutto dall'ultimo comunicato Che ha fatto Dicendo che lui ce l'ha messa tutta Che però già la regione Aveva già deciso il sito Come se si fosse messo un po' L'anima in pace E la coscienza a posto Io non so se ha capito Che purtroppo Gli sia stato sfilato L'ospedale di Fano Da sotto il naso Quindi con questa decisione Di fosse o sei ore L'ospedale di Fano Santa Croce Chiuderà Dovrà chiudere Io penso che questo Invece i cittadini fanesi L'hanno ben capito Una specie di teatrino Che il PD ha messo su Proprio per raggiungere Questo risultato Il sindaco Seri Ha fatto il cosiddetto Pesce in barile E diciamo è rimasto Un coattore Di questa piccola farsa Che si è realizzata E penso che i cittadini fanesi Non si meritano questo Non si meritano Un sindaco Che baratta La propria poltrona Con la perdita Invece dell'ospedale Cittadino Seri ha una possibilità Secondo noi a questo punto Anche per smentirci Definitivamente Che è quella Di unirsi Invece Ai 29 sindaci Che sono usciti Dall'area vasta Proprio per Protestare Contro l'ospedale unico E per dare Un'ulteriore proposta Eventuale proposta Che è quella Policentrica Cioè Molto semplicemente Nella riorganizzazione Nel potenziamento Delle strutture esistenti Vicino ai cittadini Proprio come sta avvenendo Nella vicina Emilia Romagna E dove molti Con cittadini oltretutto Si trasferiscono appunto Per curarsi Ecco Questa potrebbe essere Diciamo L'azione di riscatto Del nostro sindaco Fino adesso Questa proposta È stata rigettata Al mittente Definendoci come Quelli anacronistici Fuori dal tempo Mentre lui Era quello che Vedeva molto lontano Purtroppo I risultati Attenuti fino ad oggi Hanno ribaltato Questi ruoli La procura di Urbino Ha aperto Un fascicolo Per omicidio colposo Per la morte Di Anna Maria Tagliaferri Di 50 anni Alex Rolla Di 47 Intossicati Dalle isolazioni Di monossido Di carbonio Mentre dormivano Nel loro appartamento In via Delle stallacce Ad Urbino Sarebbe indagato Il vicino Della coppia Dalla cui Caldaia Pare si sia Sprigionato Secondo una prima Verifica Dei vigili del fuoco Il gas Che ha ucciso La coppia Lasciando in fin di vita Un'anziana Di 76 anni Tedesca Che abita Al piano di sopra Dalla caldaia Del vicino Durante il test Si è sprigionato Monossido di carbonio Che ha invaso Gli appartamenti vicini Perché la canna fumaria Era ostruita E adesso Andiamo invece A Tre Ponti Dove si è tenuta Una festa Per consegnare Al sindaco Di Arquata Del Tronto Un assegno Di oltre 40 mila euro Frutto di Tante iniziative Di solidarietà Pro terremotati E' stato un fine Settimana Che i cittadini Di Arquata Del Tronto In gita A Fano Non scorderanno Facilmente Come non l'hanno scordato Quelli di Castelvecchio Calvisio E Finale Emilia Prima di loro Che hanno subito Egual sorte Nelle loro terre E hanno passato Un fine settimana A Fano E non a caso Sotto l'ala protretrice Della cooperativa Tre Ponti Si sono tutti ritrovati Con gli stessi stati d'animo E lo stesso velo Di tristezza Nello sguardo Che però rimane fiero E orgoglioso Come sempre Gente di Arquata Gente di montagna Sincera Operosa E concreta Ma che sa riconoscere Molto bene Il valore Di ciò che Fano Ha fatto per loro Fano Ha un grande popolo Debo dire Che tutta Italia C'è venuto incontro Anche materialmente Eccetera Ma con Il popolo di Fano Proprio abbiamo stretta Quell'amicizia Che rimarrà nel tempo Perché Laddove C'è la presenza Quando uno ha bisogno Ci si ricorda sempre Per tutta la vita Sì sono due belle giornate Che vorrei sintetizzare Come un grande abbraccio Che Fano Ha voluto portare Alla comunità di Arquata Con queste due giorni Di ospitalità E ancora una volta È una cittadina Che si divide su tante cose Ma quando c'è bisogno Di essere Di aiutare qualcuno Ha un cuore grandissimo Nelle mani del sindaco Sono stati consegnati Oltre 40.000 euro Frutto delle tante iniziative Create ad hoc per loro Nei giorni post terremoto Ma anche molti beni materiali Raccolti dai tanti cittadini E gestiti molto bene Nelle prime ore Dalla protezione civile Presente anch'essa Nella giornata fanese Per una ricorrenza specifica Infatti I primi a soccorrerli E a sfamarli In quelle ore di sgomento e paura Sono stati proprio Gli uomini del CB Club Mattei Che hanno ben pensato Di coronare i 30 anni Di attività Con coloro Che hanno soccorso Ed aiutato E non è un caso Che abbiamo scelto Appunto di festeggiare Il nostro trentesimo Il nostro trentennale Assieme alla popolazione Di Arquata del Tronto Perché ci sembrava Ci sembrava Una bella festa Con loro E così è stata Devo dire che La sala era veramente piena Gli interventi Che ci sono stati Anche la presenza Di tutte le forze Dell'ordine Ci hanno fatto sentire Di essere Nella strada giusta Noi ce la metteremo Tutte per proseguire Su questa strada E per dare Alla popolazione Sia la città di Fano E alla popolazione Quello che si aspetta Da noi Quello che il volontariato Naturalmente può dare Nelle sue competenze A Senigallia C'è stato un convegno Dal titolo BCC Cambiare per rimanere Se stessi E noi Ce l'avamo L'obiettivo di questo incontro È di confrontarci Con tutto il mondo Del credito cooperativo Marchigiano Con il professor Zamagni Professore dell'Università Di Bologna Con il Vescovo Di Senigallia E con il dottor De Rigo Che è un presidente In una banca Di credito cooperativo Lombardo Sui temi Che noi vogliamo Dibattere E sulla centralità Delle banche Di credito cooperativo Nonostante La riforma Che dobbiamo essere Un unico gruppo Che ci auguriamo Che sia Un unico gruppo A livello nazionale Ma il nostro obiettivo È quello Che le banche Di credito cooperativo Anche piccole Possono rimanere Autonome Anche se Coordinati E coaduvati Dalla capogruppo Insomma In modo che noi Possiamo mantenere La nostra Territorialità E continuare Ad aiutare Il territorio Dove ogni singola Banca opera A San Lorenzo A San Lorenzo in campo È stato collocato Un defibrillatore Per ogni impianto sportivo È un obiettivo Quello raggiunto Da parte Dell'amministrazione Comunale di San Lorenzo Che ha provveduto All'acquisto Di tre defibrillatori Semiautomatici Per esterni La spesa È stata coperta Con il contributo regionale Ottenuto E con i fondi Del bilancio comunale E un altro defibrillatore Invece era stato Già concesso Gratuitamente Dal CONI Domani c'è La quarta puntata Di Missione Salute In diretta Come sempre Dopo il telegiornale Questa volta Si parlerà Di senologia E in studio Ci sarà Il chirurgo Claudio Magalotti Io sono qua Dal 16 giugno Del 2016 Per cui pochissimi mesi Abbiamo per volontà Della dottoressa Capalbo E del presidente Della regione Abbiamo già eseguito 175 interventi chirurgici Per patologia mammaria 140 tumori Il resto è Chirurgia ricostruttiva Della mammella Lo scopo È quello Di fare Una unità Di senologia Per Come le regole Della comunità europea Stabiliscono Entro il 2016 Vanno definite E lo scopo mio È quello Di sviluppare Molto la chirurgia Oncoplastica Che è uno dei pionieri Di questa chirurgia Della mammella Dove si uniscono Le riconoscenze chirurgiche Oncologiche Alle tecniche Di chirurgia plastica Per cui Si ottengono Degli ottimi risultati Estetici E naturalmente Oncologici Che sono Il primo obiettivo Che noi Cerchiamo di perseguire Per tutti Quei genitori Che ci stanno seguendo Che hanno i figli In età scolare Vi consiglio Di rimanere qui Sul canale 17 Perché tra poco Andrà in onda Uno speciale Dal titolo Difendiamo I nostri figli È tutto Grazie per averci seguito Arrivederci a domani Grazie per averci seguito